Via Libera del Consiglio Comunale di Campo San Piero ha il nuovo Day Hospital Territoriale Psichiatrico che verrà avviato dall'Ulse 6 Euganea nei locali del Piano Terra di Casa San Paolo, l'ex Ruzza di Via Bonora. Il Comune infatti ha approvato il cambio di destinazione da servizi religiosi a servizi civili autorizzando la possibilità di ospitare un massimo di 15 persone. 15.000 euro il canone d'affitto annua, netto delle spese pagato dall'azienda sanitaria alla parrocchia per rendere agibili i locali.